Armeria in via dell'artigianato 25 a Monte San Vito Ancona, telefono 071-09-62-090. Grande esperienza nel settore servizi professionali e personalizzati. Assistenza tecnica e riparazioni, official Liano Rossini Experience, specialisti in caccia e tiro, abbigliamento, accessori, coltelleria, difesa personale, arceria, soft air, fuochi d'artificio, assistenza tecnica, armi e munizioni. Vi aspettiamo nel nostro ampio negozio di Monte San Vito.